Penultima giornata casalinga per il Mazzola Valdarbia che ospita al Ceccarelli la forte Zenit Prato alla ricerca ancora di punti per guadagnare una posizione playoff a partita speciale per il capitano Piero Fabbrini che raggiunge quota 300 presenze con la maglia bianco celeste. Per lui anche uno striscione dedicato proprio alla carriera con la maglia del Mazzola Valdarbia. Zenit Prato che parte subito fortissimo Caggianese con il mancino non impenserisce Cefariello. Poco più tardi viene mandato in profondità ancora Caggianese però Cefariello questa volta è provvidenziale e para in due tempi. Mazzola Valdarbia che si vede al ventesimo con questo bel contropiede portato avanti da Baroni che poi apre per Cruciani. Il controllo non è perfetto e la palla sfila sul fondo ancora bianco celeste in avanti scambio tra Mearini e Bartolini quest'ultimo arriva alla conclusione smorzata. Non ci sono problemi per l'estremo difensore Laniere. Pericolosi ancora gli ospiti con questo errore di Fabbrini in uscita lunghi gli scippa il pallone entra in area calcia con il destro Cefariello. Non si lascia intimorire blocca la palla avrà modo di rifarsi lunghi nel secondo tempo ancora ospiti in avanti con la serpentina di Caggianese calcia con il mancino Cefariello in due tempi blocca. Mazzola Valdarbia nella ripresa che incomincia subito fortissimo giallo per Safina dopo cinque minuti sarà un giallo pesante lo vedremo più avanti. Poi Mearini apre per Nassi che prende la mira scarica la botta palla alta di pochissimo sopra la traversa a minuto e cinquantotto Zenit Prato in vantaggio colpo di testa sul calcio d'angolo di Lunghi che porta la squadra Maranto in vantaggio quasi all'ora esatta di gioco. Dunque Zenit Prato che conduce sul campo del Mazzola Valdarbia che prova a scuotersi con questa iniziativa personale di Cavallini non impenserisce però Brunelli che si distende e blocca. Al minuto e settanta succede il clamoroso spizzata di Bartolini rovesciata bellissima di Bianchi che trova il gol del pareggio sembra tutto fatto per l'uno a uno invece l'assistente numero due il signor Kevin Scano di Valdarno alza la bandierina per segnalare un fuorigioco dunque gol non convalidato ma dalle immagini la posizione di Bianchi è nettamente regolare quindi il gol era buono ma non c'è niente da fare contro la decisione dell'arbitro che ovviamente decide di non assegnare il gol si riparte dallo 0-1 una partita sino ad ora correttissima si innervosisce lo stesso Bianchi per proteste viene spedito anzitempo negli spogliatoi poi è Safina a commettere l'ingenuità già ammonito commette fallo su Gianneschi si becca la seconda munizione anche esso va a fare la doccia clamorosa poi l'occasione per lo Zenit Prato che non riesce con Falteri a chiudere la partita e bravo Cefariello a bloccare la palla arriviamo al novantesimo fallo su Bartolini al limite dell'area posizione succulentissima neanche a dirlo Michel Cruciani prende la mira spara e infila e in porta il gol dell'uno a uno un'altra l'ennesima meraviglia di Michel Cruciani ottavo gol con la maglia bianco celeste da gennaio ad oggi un giocatore straordinario un gol bellissimo e dunque è uno a uno al Ceccarelli non c'è più tempo perché nonostante i lunghissimi nove minuti di recupero non succede più nulla le due squadre si accontentano di questo pareggio ma solo va a darmi al momento al quinto posto in classifica